Buon pomeriggio e ben ritrovati. Siete pronti a trascorrere questa domenica spaziale con il trotto di Agnano e il galoppo di Milano? Noi sì, ecco qui per voi le quote appena sfornate. Andiamola a vedere insieme. Iniziamo subito a parlare del Gran Criterium che si correrà domenica alle ore 17. È match per i nostri quotisti tra il Fanulpifer a 2 e Arpinati a 2,80. Le alternative sono Prior Philippe 5,50, Crisolo e Grey Grizzly a 13, mentre Filou a 16 e Sentimento d'Arcadia è l'estremo outsider quotato 101. Per quanto riguarda invece il Gran Premio Lotteria di Agnano, ecco le quote. Ci si aspetta un match tra il nostro McGreis SM e il Sauro Volander Commander Crow. Le quote per McGreis 2,25, mentre per Commander la quote è di 2,75. Le alternative sono Owens Club a 7, Marielle a 13, Orsia a 26, Marlon Noem, Luc Mepio, Zasco Di Ruggi e Linda Di Casei a 66, Moses Robb a 101, mentre altro è quotato 31. Detto ciò vi auguriamo una splendida domenica e vi invitiamo a giocare ovviamente sul nostro sito www.snai.it. Grazie a tutti.